Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video mattutino Appena logato, post live serale, guardate che cosa mi ritrovo Ragazzi, mi hanno appena consegnato uno spray che vi ho fatto vedere precisamente una settimana fa E che quindi riguarda i premi dell'AFL A quanto pare il torneo dei vari creators dell'Australian Football League si è concluso Noi abbiamo ricevuto lo spray, ma niente V-Bucks Ciò significa che il team che ho gioinato non si è classificato nei primi tre team E niente ragazzi, ripperotti Ma di che cosa parliamo oggi? Raga, precisamente 24 ore fa vi ho mostrato un post su Reddit del creatore di Five Nights at Freddy's Proprio lui andava a negare qualsiasi collaborazione con Fortnite e Fall Guys Raga, sembra davvero che tutte le cose oggi combacino tra di loro Sicuramente ci sta trollando ragazzi, arriverà qualcosina anche perché i file ci sono E quindi raga, tante sorpresone per noi Ma subito dopo vengono luiccati dei file ufficiali sull'altro gioco e quindi su Fall Guys Che riguardano delle skin che verranno presto implementate su Fall Guys ragazzi Delle skin di Fortnite Lo sapete, ci sono tantissimi personaggi tra cui proprio lui che mi immagino su quel gioco Non so come stia andando ragazzi perché vi giuro non lo provo da agosto Quindi è passato un bel pochetto Ma già la forma della sua testolina si addice tantissimo allo stile dei personaggi di Fall Guys Quindi ci starebbe tanto raga Vi giuro ai tempi se non erro dissi anche una cosa simile mentre giocavamo E quindi raga, addirittura questa è segnata anche nelle 5 stringhe Perché ci sono ben 5 file che riguardano ogni singola skin ragazzi 5 skin nozze Una è il lama, ignoranza assoluta Leader squadra coccole Pili e quindi bananita immancabile Sarà bellissima La coniglietta E poi Ripley Eccolo qui, è proprio lui Non so quando tutto ciò accadrà Però spero che la collab venga ricambiata Nel senso, mi spiego meglio Vorrei qualche item di Fall Guys anche su Fortnite Ma non sto parlando di skin perché non saprei neppure come immaginarla Una skin di Fall Guys su Fortnite Praticamente impossibile Magari un backpack o qualcosina del genere Sì raga, sarebbe davvero carino E voi, qua sotto tra i commenti Siete tra tutti quelli che hanno mollato Fall Guys Oppure c'è qualcuno che ancora ci sta giocando Fatemelo sapere ragazzi Con un bel commentino E mi raccomando un bel like ozzo Una cosa però mi risulta parecchio strana E nel mentre ci prendiamo tutti gli exp coin di questa settimana 10 Mi raccomando ragazzi seguite i video Perché dovete rimanere al passo raga Altrimenti poi si crea troppa confusione Tra una settimana e l'altra Dicevamo, perché mi sembra un po' strano? Perché vedere un gioco come Fall Guys Che ha avuto quelle due settimane di mega hype Ad agosto, luglio, non ricordo Che mese era Collaborare con Fortnite Non lo so Perché davvero Raga, per due settimane non si è parlato d'altro Non abbiamo visto altro Su tutte queste piattaforme di streaming E di video Solo Fall Guys Fall Guys e Fall Guys Prima monetina Ci troviamo nella mia isola speciale del Barrettozzo Oh, salve T'ha posto? Stai facendo un video sul bunker? Che si dice broda? Mi puoi dire qualcosina? Vabbè Ok, prima monetina verde ragazzi Apriamo la mappa E ci troviamo qui alla sinistra di Scogliere Scoscese I nostri primi 5.000 punti Esperienza Belli, belli, belli Dai che si livella Guardate quanto manca poco Di solito non faccio questa cosa Ma oggi è davvero inevitabile Guardate dove mi trovo E quanto ci siamo spostati L'isola si trova qui Noi siamo proprio qua sotto raga Sotto il ponte di Parco Pacifico Perché qui ci sarà un'altra monetina Non verde Ma in questo caso blu La prendiamo subito E sì Ma che cos'è tutta quest'acqua raga? Ma? Vabbè Stiamo creando una sorta di percorso Un po' diverso dal solito Però raga Davvero È inutile farvi andare di qua E di là Se poi tutte queste monete Di color diverso Sono vicinissime tra di loro Spero di non beccare nessuno Perché continuando per questa strada Ci sarà un'altra monetina Verde Raga Dobbiamo recarci dietro al ristorante Quindi vicino al frutteto C'è gente Andiamo, 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 andiamo Il container che dovete visitare È proprio questo qui grigio Dietro all'insegna Andiamo Ok ho fatto un po' di danni Qua dentro raga Entriamo E prendiamo la nostra terza moneta Ci siamo, ci siamo, ci siamo Stiamo andando a go go Quindi oggi Seguite il mio percorso personale Direzione squalo Mamma mia Da quanto non atterro in queste zone Altra monetina blu ragazzi Altra monetina blu Dopo ci spostiamo su una di color viola Perché ci cade proprio di fronte Agli occhi E quindi Prendiamo questa qui Impossibile Non riconoscere la zona in cui ci troviamo Salve 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 Sono un maestro Per sfuggire agli avversari Via Madonna Ma che hanno cambiato quelle barchette Ma perché vanno a destra e a sinistra Cioè ma seriamente voleva killarci raga Ma non ha capito nulla Ma seriamente non hai capito nulla fratello Osservate dove mi sto recando E prendete come punto di riferimento Parco Pacifico Viriamo Raga Busta 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 La nostra monetina sarà proprio qui Più o meno Sì Quindi dobbiamo recarci sulla sinistra Le cissa Salve sudate In questo caso non ci interessa Saliamo E dallo squalo ragazzi Scendete Grazie a questa zona Quindi color purple Non ho materiali Non la posso chiudere Eccola qui Allora Buttiamo un pochettino Le cissa Nibot Non ci interessano Assolutamente No 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 Prendiamo Ok 36 Raga purtroppo queste vanno boxate Perché Altrimenti Volano ovunque le monetine Vediamo se non arriva qualcosina Non va bene già questo box Assolutamente no Perdonatemi se continuo a dire Assolutamente È una sorta di Oh no 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 Mi sono volate Mi sono volate raga Dove sono le altre? Dove sono? Ok Ne manca una Uh Veloce Ne manca un'altra Ho felato Dov'è? Uh Eccola Quindi dallo squalo Che si trova in alto A sinistra sezione Nord ovesta della mappa Ci siamo spostati Alla sinistra Di barco pacifico E possiamo dire Che ci siamo tolti Tutte quelle Nella zona nord Passiamo alla zona sud Della mappa Non ci posso credere Ma la scia È super corretta In questo game Ragazzi Spostiamoci Verso corso commercio Partiamo Da qui La moneta In questione È una monetina Di color verde E dovrebbe essere Proprio qui sotto Andiamo se me la renderizza Eccola lì Sì che c'è la renderizza Vabbè Adesso renderò Tra 24 anni Però Dai ci siamo L'abbiamo beccata Eccola 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 Intanto apriamo la mappa Ragazzi Guardate la zona Ok Spinniamo Prendiamola Va bene Spostiamoci verso ovest Lago Languido Stiamo arrivando È proprio lì In quel punto di riferimento Ce ne saranno due da prendere Una viola Ed una verde Intanto becchiamo anche Un bel bottone Oh Vabbè Vabbè raga Ma le becco tutti io oggi Ok Continuiamo Oh ce n'è un altro Non ci credo Raga Pubblica Ma Questo mi uccide Questo mi uccide raga Non so se arriverò San e salvo A destinazione Comunque raga Allora Oh bello quello Prendiamolo Al volo Stanno paetando Allora la prima moneta È proprio lì Ma ci muoio Ne sono sicuro E siamo di fronte Al lago Languido Questa però raga Potremmo prenderla Anche senza boxarci Perché è davvero easy Proviamoci Proviamoci Rischioso Una è volata Sono one hit Sono seriamente one hit Non fatelo raga Assolutamente non fatelo Ok Prese tutte Spostiamoci raga Da corso commercio Eravamo qui Siamo arrivati Qui Adesso andiamo Dall'altra parte Di lago Languido La monetina Che stiamo cercando Eh sì Sono morto raga Sono morto Malamente È proprio sotto Al ristorante Qualcuno che la viene A prendere con me Andiamo Siamo in due Vabbè ma oggi È impressione Ma perché Che cosa sta accadendo Mi stai buoni bot Raga Mi amano Jules vieni qui Vieni qui amore mio Vieni qui Jules Dai Fate piccunare con questo Nuovo stile Ok Nice Va bene Dove ci troviamo Qua sotto Ristorante di Lago Languido Foresta frignante Arriviamo E poi Laboratorio Della latrina Eccoci qui A foreste Troviamo anche Un bell'amozzo Incredibile raga Oggi troppa fortuna Davvero Troppa fortuna Nel fare questo video Impressionante Uh Beh un player La mozzo Che cade Ok Raga io vi consiglio Di aprirli sempre Normalmente Perché danno 750 Expo L'uno 735 Perdonatemi Perdonatemi Ragazzi Perdonatemi Oh Ma Boh Ho l'account Buggato Ma vorrei Beccare tutti Sti bot Pure in live In singolo Eh Ma seriamente O è l'orario Sono le 4 e mezza Del mattino Comunque raga Dove trovare L'altra monetina A foresta Frignante La nona monetina Sotto Il ponte Di legno Mannaggia Questi alberozzi Eccola lì Eccola raga Ve la vado a Appinnare già da ora Il ponte È proprio questo qui Impossibile Sbagliare Andiamo raga Ok Raga Spostiamoci Sull'ultima Dai Va bene Sperando che Laboratorio Sia in safe Vediamo 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 È in safe Dov'è il laboratorio Della latrina Sotto pantano palpitante Proprio qui Dove ci dobbiamo recare Allora Eccoci qui Apriamo Ti consiglio di rompere Quassù Spacchiamo tutto E ci droppiamo Raga Sulla mega Monetona Dorata Che in questo caso Ho voluto proprio Lasciarvela Per ultima Io spero che questo video Mattudino vi sia piaciuto E che vi sia stato D'aiuto ragazzi miei Prendiamo la monetossa Ben 15.000 punti Esperienza Per noi Siamo quasi Al 258 Superi gg E adesso Andiamo a spulciarci Lo shop Giornaliero Raga Grazie per il supporto In tutti questi video Mattudini Grazie per il codice Martex Che utilizzate Quotidianamente Nello shop E lo refreshate Ogni 14 giorni Grazie 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 A tutti Grazie Simo Jay Per il regalozzo Quotidiano Ci ha regalato Wanna see me Belli miei Questo è lo shop Di oggi Eccovelo qui Wanna see me New entry Nella serie di icone L'ascoltiamo Per qualche secondo Perché si tratta Di un sound Purtroppo Copyrighttato Ditemi se la riconoscete Ok 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 Basta 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 Siamo andati già Troppo 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 Oltre Uragano 2000 V-Bucks Quanta ignoranza Dovrebbe essere Un altro balletto Proveniente da Tiktok Tiktok Che poi Perché è copyrettato Non lo so Seriamente c'è una traccia così Parlo proprio come Audio ufficiale Non lo so Su youtube Boxi Prima e secondo stile 800 V-Bucks Di skin Maschile e femminile Boxer Vediamo il secondo stile Ragazzi Sono state implementate Ad Halloween Queste Rompiscatole Piccone da 800 V-Bucks Andiamo avanti Cartone fai da te Vrappozza Bellina Perché no Mille bolle Bello 800 V-Bucks Anche lui Destino Ed Omen Ovviamente In versioni Delle varianti Un po' strane Rispetto a quelle Originali Tagliente Affilato Sotto abbiamo Stracci Con un sacco Di stili Selezionabili Davvero Con E senza Neon Poi con Giacchette E senza Giacchette Vabbè Andiamo avanti Mister Mice 1200 V-Bucks Quattro stili Selezionabili Anche lui Reattiva come skin Quindi in game Davvero Raga Quando si ricevono Dei danni Vanno a scoppiettare Questi mega Popcorn Carinissima Come mot Abbiamo Una da 200 V-Bucks Footbag Bella Dita a pistola Perché Dita a pistola Altra 200 V-Bucks E mossi Di prima scelta Che sound Sotto abbiamo ancora I giocatori Di football Americano Quindi raga Vi piacciono I moti di oggi Sì o no Che ignoranza Che ignoranza Ragazzi miei Il video si va a concludere qui Spero che vi sia piaciuto Un'altra volta Noi ci becchiamo in live Oppure in un prossimo video Mattutino Un salutone da Martex E come un saluto Un bel Sia Brrrr Un saluto Un saluto Un saluto Grazie a tutti.